Forza Italia riparte da una convention. L'appuntamento per gli azzurri è fissato a dopodomani ore 10 al Teatro Don Bosco a Lecce. Titolo della convention, aree metropolitane, soppressione delle province, fusione dei comuni. Per rispondere al quesito, quale futuro per il nostro territorio? Noi vogliamo sensibilizzare le comunità, gli uomini e le donne del Salento perché possano essere partecipi e protagonisti di questo processo. Lo facciamo andando a ragionare e a discutere su quelli che sono i temi delle riforme, naturalmente traendo anche l'opportunità di poter mettere in chiaro qual è la proposta di Forza Italia attraverso un leader e un uomo, Raffaele Fitto, che sta lavorando molto intensamente per ridare a Forza Italia un progetto politico. È un momento storico, sottolinea Gabellone, per Forza Italia trascinata da Raffaele Fitto che ha organizzato un'altra convention per il 21 febbraio a Roma, evidente allargamento del raggio d'azione dei forzisti salentini. I quali, nonostante il naufragio delle primarie, sosterranno convintamente Schittulli, scelto da Berlusconi. Schittulli era disponibile a farle alle primarie, non si è mai tirato indietro, è chiaro che ha posto un problema di tempistica. Raffaele Fitto suggeriva un metodo, ma diceva con chiarezza che nel momento in cui il partito a livello nazionale avesse avvocato a sé la decisione, un minuto dopo sarebbe stato in campagna elettorale. Da quello che era qualche mese fa, rispetto alle dichiarazioni immediatamente dopo, la indicazione da parte del partito nazionale di Schittulli, Fitto è stato assolutamente conseguente. Sarà al fianco di Schittulli a fare campagna elettorale, a consentire che il centrodestra possa tornare a governare. Schittulli sarebbe favorito su Emiliano perché, secondo Gabbellone... Emiliano è espressione segretario regionale di un partito, il PD, che ha sostenuto Vendola, lo ha sempre sostenuto. Quindi le colpe che oggi tenta di scaricare a Vendola, quasi immergendosi in acque purificanti, non possono sicuramente rappresentare un tirarsi fuori dalla responsabilità, e quindi le riconosce egli stesso con questo suo atteggiamento, che ha Vendola, il centrosinistra, Emiliano, segretario regionale del PD e l'intera coalizione per come hanno ridotto la Puglia.